Quanto mio figlio me l'ha detto di Quantonella, no non ci credo, mi dice mamma perché lei lo sapeva che io volevo bene a questi ragazzi, perché lei poi era separata, era da sola, guarda era una cosa, dice Maria ma quando dico guarda domani è il mio compleanno, quando li compi siamo dello stesso segno, mi ha portato il regalo, dopo io l'ho fatto a lei, comunque guarda era veramente, era una ragazza che io ci sono rimane proprio sciocca, non ho fatto niente stamattina, niente. Però quando passavano con l'ascensore si fermava e suonava la porta, dico ciao Giorgia, ciao, ci fa ciao signora Maria, e con la mamma fa mamma compriamo un pencerino alla signora Maria, e lei mi ha detto infatti c'è ancora una piantina così, no ma guardi era veramente, non riesco a crederci. Ma quanto vivevano in questo palazzo? Non lo so perché noi siamo qui da un anno e mezzo circa. E loro erano già qua? Loro erano già qua, sì.